Se anche tu vuoi contribuire alla crescita qualitativa di questo canale, sotto ad ogni video troverai un link in descrizione che ti permette di donare un piccolo contributo. E io ho riscordi, arrivano, benvenuti in Sicilia, cose caratteristiche, qua è partita quindi lì stiamo registrando, qua è partita da un pezzo, stiamo registrando però voglio più luce, orchestra, tieni qua senza cliccare un Kaiser, intanto mi faccio una sbavata, siamo al posto, sì. Perfetto, ora mi fai l'introduzione, e no, perché mi devi fare la sfumatura con l'intro, ciao, ciao, è sempre un deficiente, tome che mi dice, che bella quella parte, quindi, ma tu sei tu, io sono io, falla a modo tuo, buonasera a tutti. Siamo qui per una nuova giornata di ballo opening, stavolta faccio io tutto, lui sta seduto qui accanto a me in silenzio. Ma perché buonasera? Perché non lo so, mi viene buonasera. Cioè, sto video, voglio dire, praticamente, una mattina, siree, notte, ciao. Perché stiamo registrando dopo mezzogiorno. Ma veramente su... Dopo mezzogiorno? Sì, 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 ma dopo mezzogiorno e buonasera. Ho capito, ma loro vedranno il video quanto vogliono. Ciao a tutti, siamo qui per una nuova giornata di ballo opening, questa sera porto io. No, faccio il video, ma bene, è la stessa giornata, video, non è la stessa cosa. No, è un video, non è una giornata. Cioè, scena il vuoto. Perché torno a fare la sala di fermo, questa mano. Dalla... Aspetta. Ciao a tutti, questo è un nuovo video di ballo opening, stasera sono da sola. Ok. Io ho tornato un po' che... Ho salutato, ho entrato un po' che... Passate un po' con chissà. Ah, questo è buono, questo è per fare il ginnastico con la mano? Eh, fa il ginnastico, intanto mi fa una bella intro. Non lo so, non c'ero. Vai. Ciao a tutti, questa sera... Ah... Sera, no! Perché? Non lo so. Che c'è di difficile? Ciao a tutti ragazzi, sono desi e bentornati. Ma dai, anche dai. C'è anche l'rece di orgoglio. Non ci piace. isu... Ma, è un buona sera. Ma buona sera ma nonni, siete dei nonni va bene. Buonasera perché siete dei nonni, sempre gli conosco di persona. Quindi io, sempre dello... Ciao... ciao ecco appunto è finissima così se mi veniva sere cerito che facevi vedi che c'è la voce alta volendo ciao a tutti siamo qui per una nuova giornata di buon opening e poi perché giornata video è un cazzo di video 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 te lo scrivo in caratteri cubitali video dai andava per forza vai ma sembra stisa vai ciao a tutti siamo qui per un nuovo video di ball opening giusto? ah dai questa parte stasera avrò io le redini della situazione stasera ancora lo deve dire stasera o buonasera o stasera oggi 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 terrò io le redini della situazione cavallina che si vede non lo penso di sì ma non si vede le mani un attimo che faccia così fai tanto che rimpicciarisce io rimpicciarisco vabbè senti ho detto anche un po più in alto perché mi sa che forse sono troppo basso ma la misura gigantino più ero rimpicciolito dovevano un gigantino ma in vendita di qualcosa di con la gente speciale che non so nemmeno qual è perché effettivamente non lo so pure lo leggerà dai giro sono due ancora non lo sai ancora non lo sai allora sono voi facendo slide stars r16 week su quello sotto e l'ottanta più come al solito l'ultimo è un wall stars che una gente in più ok è con l'ultimo essendo che ci sono 100 monete my club ce lo puoi pagare con 100 monete my club e noi ne abbiamo 578 ci andremo a fare delle non dico quante perché sono tu mi spumi tutte delle pescate con quella gente di con le monete quindi ci vengono gratis praticamente che sono le monete che ci dà la set ogni settimana la comune bene ma con la gente speciale web a champions league stars r16 week 2 92 minuti di applausi perfetto prima di andare avanti e vorrei ricordarvi che questo signore qua insieme a gap gamer 74 luca pack chrisabbo chrisabbo pure si trova hanno creato un gruppo pes italian bar che ovviamente dedicato a tutti gli appassionati di pes di qualsiasi piattaforma anche se la maggior parte hanno ps4 se sembra un quattro pavano uguale chiesto 4 si va bene ok effettivamente di qualsiasi cosa carico sicilian style ed ora facciamo una magia si esatto ora facciamo una magia la magia vuole quello che facciamo insieme tipo così però dove dobbiamo riuscire a farlo contemporaneamente quindi 3 2 1 niente non deve essere si deve sentire un tante 3 2 1 non ce la faremo mai 3 2 1 la mette le mani così ok 3 2 1 3 2 1 3 2 1 cos'è perché semplizzata che è un bug sta allargando perché questo video è infinito 3 voglia ok ci siamo 3 abbiamo come tempo con la mia o 3 2 1 perfetto magia effettuata e con questa bella magia siamo arrivata lista dei ricetti speciali appunto web a champions league stars e le 16 di cui abbiamo anche l'ottanta più ma sotto abbiamo anche il guarda perfetto noi praticamente oggi ci andremo a fare un tot di pescate non dico quante perché sono questa mi spende la qualsiasi no e dentro di noi dopo te lo do il controller stavo dicendo faremo un tot di pescate quindi a sorpresa anche per voi sia con la gente come facendo league stars il week su di cui ne abbiamo due free lo vedi la sì ancora due perché ho fatto sia la coppa challenge online che la coppa challenge contro come questo non lo faccio dire a te perché sennò finiamo domani ci faremo una pescata obbligatoria perché ancora una volta con l'ottanta più e ci faremo un tot di pescate con world stars pagando a monete my club perché ragazzi io durante le settimane o del o delle monete accumulate che non utilizzo ne ho 578 e quindi andremo praticamente gratis pure con world stars ora io passerò non mi piace sta faccia c'è di buono io ho delle pescate gratis ok non ti grattare vieni allora ragazzi iniziamo col uefa champions league stars e ci andremo a fare intanto le prime due pescate free ok se continua non dobbiamo pagare free ovviamente quando vuoi tu non ci stare tre ore dovrebbero argentone boli va beh vai avanti aggiungiamo prima club abbiamo l'otto per cento di pescare un pallone nero con 19 giocatori 35,2 per cento abbiamo oro e 56,8 per cento di argenti non abbassare la voce ce ne va fare la seconda pescata free conferma ma ci dovrebbero stare vabbè intanto pallone oro non fa un cazzo vediamo un po chi è ivan marcano tu lo conosci manco io spagna del porto via avanti aspetta un attimo abilità difensiva 87 recupero palla 85 colpo di testa 84 contatto fisico 81 abilità dei giocatori principali nessuna trattino 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 e trattino nessuno aggiungo a giudere il my club e passiamo al uefa Champions League stasera e 16 week 80 più previsto qui abbiamo il 8,5 per cento di una palla nera abbiamo l'8,5 per cento di pescare una palla nera meglio sì quindi contattiamo la gente da giusto contattiamo la gente stavolta devi pagare paga o conferma tanto paghi tu certo però su tre pescate 10.000 chi è vai porca miseria vabbè vabbè un portiere che magari ci serve boia spagnolo tredico de madrid 32 anni alto 189 serie di gioco trattino che trattino e nessuno non è lo stesso no contatto fisico 89 portiere 89 presa e riflessi 89 altre abilità dei giocatori no leggi abilità dei giocatori principali trattino 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 no 25 sono quattro quindi trattino 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 basta aggiungiamo la mia prima club e ora possiamo al world star e e vai qui ahhh vedo non è indietro qua piano cioè se è quello che ti dico io ok ok scendo perfetto abbiamo abbiamo 7,6 per cento di pescare una palla nera un pallone nero un pallone nero quanti giocatori ci sono stasera abbiamo il 7 virgola perché stasera ma sa mi fai confonde abbiamo il 7,6 per cento di pescare un pallone nero no con 43 giocatori mi sta spezzando un dito è vero 43 giocatori e il 92,4 per cento di pescare un pallone oro che sono 170 giocatori perfetto ora contattiamo la gente ferma paga con monete my club vai conferma aspetto gira la ruota quando vuoi niente manco lo scattino vediamo poi che abbiamo preso non fa un cazzo a te ti avevo svincolato vabbè in che senso come si chiama emma chrome daily brava che è danimarca seviglia fc tendrà tre anni un metro e settanta ogni presente oh quindi vado avanti no a 81 che cosa leggero così come vedi cls 81 brava andiamo avanti allora controllo palla 85 passaggio alto 84 resistenza 84 passaggio raso terra 83 abilità dei giocatori principali tiri di collo tiri di collo tiri di collo trattino 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 bellissimo sei capito che fa un culo mi stai prendendo in giro mi stai prendendo in giro aggiungo a me i club faccio tutto da sola tu mi stai prendendo in giro no ma sto trattino 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 che non hai detto mai mi sto fanno dire solo a me comunque la percentuale che cosa è sul web ora abbiamo il 7,7 per cento di pescare un pallone nero mentre il 92,3 per cento di pescare un pallone oro andiamo avanti pago con monete my club ok confermiamo una prendila una battere nella stanza non ci credo e tiro il biglietto della luceria di ieri che per un numero vincevo cento mila euro per numero così è qua anche ha pescato un nero guarda che brutto Brasile ma chi è intanto? allora intanto ramirez cc 82 del Brasile rancos rancos su rancos su ning età età 29 anni altezza 1,79 ogni presente stile di gioco ogni presente allora velocità 89 resistenza 88 potenza dirompente 85 passaggio su terra 84 aggiungo my club si aggiungo no perché tu trattino 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 vero l'hai detto comunque quindi aggiungi ora my club ti sei fregando come volete la gente non mi interessa ma io ma c'è mi interessa ma non in questo caso no un po' di spiego ok ora abbiamo il 7,7 per cento sempre uguale eh aspetta a quante peschiate siamo arrivati due due con questo quante ne abbiamo fatto si è precedentemente abbiamo fatto due più una quindi siamo a 5 totalmente certo teoricamente questo sarebbe la fine del bollo che mi ne facciamo un altro facciamo pare dispari non ricordare così un altro e poi facciamo pare visto no tu tu pare e io dispare bim bumba dispari ma vaffanculo però siccome oggi nello stato accattivo ti faccio fare comunque una pescata in più decidi tu su quale gente aspetta torno indietro se vuoi farlo col champions league stars o col world stars perché con così anche le gp ce ne abbiamo per poter fare un'altra pescata sta vedendo le percentuali però lì qua è gli argentoni sempre con monete qua e ma con le stesse monete qui ne posso fare due di là ne posso fare come fare altre tre pescate con le monete si però nel senso quello è 250 monete ogni pescata queste 100 quindi qui ne faccio due sai che ti dico invece visto che praticamente questa è una promozione fino al giorno 12 che stiamo registrando noi la domenica perché fino al giorno 12 si possono fare le pescate con 100 monete my club sul world stars cosa che tu non sai quindi automaticamente se ne ho fatto un cuore altre pescate alla fine vince sempre lei vai dava conferma lei si canticchia la canzoncina la prossima vai fuori vediamo se fosse un po' più di fortuna e posso anche allontanare vediamo aspettare 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 tanto peggio che ti vediamo un po' buono buono questo è giro giro francia arsenal fc 30 anni un metro e 92 stile di gioco pulcro di gioco P83 Prima punta, protezione generale 83 Andiamo avanti Allora, colpo di testo 88 Potenza di tiro 88 Contatto fisico 88 Abilità offensiva 86 Quindi abilità dei giocatori principali Colpo di tacco, colpo di testo Tiro di prima Finalizzazione acrobatica Trattini Non c'è ne Aggiungo a my club Bella pescata comunque Ok, andiamo avanti Siamo sempre a 7,8 Però servito Abbiamo un'ora in meno In ogni caso, però le precettuali sono quelle Abbiamo altre, le ultime due pescate Con le monete ragazzi Prego Ciao Ultima due pescate faccio da sola Cambio anche postazione Cioè mi ha lanciato pure la palla Vabbè io non vedo comunque ragazzi Dimmi tu quando si ferma Con manete my club Confermiamo Gira di verso la porta No tanto non lo vedo Lo so però io così non vedo io te Dimmi quando si ferma Ok No Ha fatto lo scattivo Che cazzo hai preso Vabbè Ma che brutto No è bellissimo Ok TRQ Sarebbe Aspetta Intanto Osil Misuto Osil TRQ 87 Germania Arsenal FC 28 anni In meteo 83 Stili di gioco Regista creativo Vado avanti I buffi Allora passaggio rasoterra 95 Controllo palla 93 Passaggio alto 88 Abilità offensive 86 Abilità dei giocatori principali Astuzia colpo di testa taglio Colpo di tacco Colpo di tacco taglio alle spalle E giro Sei altre abilità Altre sei abilità dei giocatori Qua d'aiuto io Brava C'ha ragione Vai Aggiungo Emei club Confermiamo Ultima pescata Fai la stessa cosa Magari Pago con monete Emei club Girati sempre Dall'altra parte Confermiamo Lui intanto gioca Con la mia palla Tu giochi con le mie Dimi quando ci fermo Si è fermato Però oro Eh vabbè E questo è carino Ti piace? Fammi capire Aspetta Ma rispetto a quello di prima Era bruttissimo E vabbè Ma carino Sessegnone Allora CLD 80 Benin E' stupendo Che cazzo Comunque Sarà francese No Monteperliere Monteperliere Quello ho capito Che vede la Francia Il club Dove gioca lui Però no Comunque 32 anni 1,70 Stile di gioco Alla prolifica Posso andare avanti? Certo Ok Controllo del corpo 88 Dribbling 85 Resistenza 82 Controllo Pallo 80 Abilità dei giocatori principali Astuzia Veronica Non è una ragazza L'abbè immaginata Comunque Esterna Giro Elastico Perfetto Ora vi chiudi No Non c'è bisogno Dammi sto Cosa Prima che fai Tanto Ora devi concludere il video Devi Devi Ricordare Il discorso del gruppo Quindi invitare la gente ad iscriversi Perché trovano il link di iscrizione Che prima non l'hai detto Giusto? Dopodiché Visto che pure tu sei tanto curiosa Di sapere chi hanno pescato l'oro Col world stars E lui fa c'è più slick stars E finisce così Ciao Vabbè che ne vai faccio tutto da solo Tenete da sotto i miei contratti E allora per oggi abbiamo finito di fare Ball opening Vi ricordo come sempre Il nuovo gruppo su facebook Pess Italian Bar Vi invito a iscrivervi Trovate il link sotto in descrizione Fatemi sapere cosa avete pescato voi Con questa gente speciale Comunque io vi saluto qui Alla prossima Ciao Ciao Anzi La vedete con la saluta Non davvero ritrovare Da mettere in avanti Salutare E levati Metti di qua Alla prossima Ciao L'ho visto Ciao 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 Ciao